Circa 900 grammi di cocaina e 57 mila euro in contanti e quanto sequestrato nello scorso weekend dalla Guardia di Finanza della BAT nell'operazione condotta dalla compagnia di Trani con il supporto di unità cinofile e baschi verdi della Guardia di Finanza di Bari. Un uomo è stato arrestato per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti durante i controlli predisposti dal comando provinciale di Barletta. Le fiamme gialle hanno infatti intercettato un individuo a bordo di una vettura nel centro di Trani. Fondamentale il supporto del cane antidroga Antrax che ha reinvenuto il prodotto illecito all'interno dell'auto. Dopo un successivo controllo sono stati ritrovati anche 4 mila euro in contanti. La Guardia di Finanza ha poi perquisito l'abitazione del soggetto residente a Biceglie. Qui sono stati ritrovati ulteriori 53 mila euro che a fronte dei bassi redditi dichiarati dall'uomo sono stati ritenuti proventi di attività illecita. Denaro sequestrato dalla compagnia di Trani che ha poi quantificato in circa 160 mila euro il possibile guadagno derivante dallo smercio dei 900 grammi di cocaina. L'autorità giudiziaria ha poi disposto il trasferimento dell'individuo presso la casa circondariale di Trani.